Benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, venerdì 7 agosto 2015. Ben ritrovati a tutti. Cominciamo dal Santo del Giorno. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Sisto II e compagni, Sisto II Papa, compagni martiri. Il sole è sorto alle 6.02, tramonterà alle 20.25. Vediamo il tempo di oggi, una giornata serena con temperature ancora molto elevate. Questa è la fotografia delle 7.30 del mattino dal nostro osservatorio che ci indica anche la temperatura, 23 gradi e 3. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con lievi velature, addensamenti più consistenti saranno possibili solo sui rilievi durante le ore più calde della giornata, le temperature sono in aumento, i venti di brezza leggera, il mare sarà poco mosso. Domani, sabato 8 agosto, cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà il transito di velature, addensamenti più consistenti soltanto sui rilievi, pioggia sui sibilini, temperature lieve aumento, venti di brezza leggera, il mare sarà poco mosso. Per domenica 9 agosto, cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti nelle zone montane, interne, precipitazioni che saranno possibili con rovesci sparsi nel settore montano della regione, le temperature senza variazioni di rilievo, i venti di brezza leggera, il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda la tendenza per i giorni successivi, l'inizio della prossima settimana sarà molto probabilmente caratterizzato da diffuse condizioni di instabilità in graduale, attenuazione. C'è la cronaca sui quotidiani, il Carlino, il Messaggero e il Corriere Adriatico, ci sono gli eventi, ci sono le iniziative, c'è ancora la politica, la politica locale che non va in vacanze. Allora cominciamo a leggere la pagina del Messaggero di Fano, perché ieri vi abbiamo dato notizie anche nel nostro telegiornale delle 20 e 30, occhio alle notizie, insomma quel successo personale del sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha annunciato la maxibonifica nelle scuole, nelle palestre, per esempio come il palazzetto dello sport, bonifiche dell'amianto. L'amministrazione dice siamo l'unica città delle marche con la deroga al patto di stabilità. A disposizione quindi ci saranno oltre un milione di euro per interventi di messa in sicurezza dei siti contaminati. I fondi serviranno alle operazioni di smaltimento e rimozione. Nell'elenco anche il palazzetto dello sport a Liende, a San Lazzaro e l'ex mattatoio. Si conclude la festa dei quattro cantori, che quest'anno però sono uno in più. Si conclude questa sera nel centro storico di Fano, curata questa iniziativa dall'assessorato comunale al turismo. Quest'anno i cantoni non sono quattro, ma uno in più, quindi cinque. L'offerta gastronomica di specialità tipica è stata affidata da altrettanti operatori del centro storico. Da in escandescenza e aggredisce una cliente. Momenti di paura, il caffè centrale di Fano, ieri intorno alle 12.20, quando una giovane donna di origine albanese ha prima dato in escandescenza e poi ha aggredito una cliente senza motivo. È stata portata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Fano. È stata prelevata dagli agenti del commissariato. Sempre sulla pagina di Fano, però questa volta del resto del Carlino, anche qui l'apertura è sulla vittoria del sindaco sulla battaglia contro l'amianto. Via da tutti i nostri immobili. Massimo si riannuncia, lo rimuoveremo entro quest'anno. Il Comune potrà spendere 1.400.000 euro in deroga al patto di stabilità. Sempre sul quotidiano bolognese, l'inserto della provincia di Pesero, e quindi fanno attenti alle truffe in strada. La Feder Consumatori dall'allarme è la denuncia di Sergio Schiaroli, che racconta il modus operandi di questo truffatore. Quindi se volete potete approfondire leggendo e acquistando il giornale questa mattina in edicola. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico. La cronaca. Un catamarano si capovolge. Soccorsi tre diportisti. L'incidente è causato dal vento a largo di Gimarra. Sono intervenuti due natanti della guardia costiera. Tutto è successo intorno alle 13 di ieri, dopo che il loro catamarano si è ribaltato. È importante la chiamata al numero blu 1530, che è stata una chiamata providenziale. Insomma, poi sono subito partiti. Va detto che oltre al 1530 il numero di telefono, se avete bisogno di emergenza in mare, il numero della capitaneria, appunto, della guardia costiera. È importante anche essere dotati di sistemi di sicurezza, come lo erano i tre dell'equipaggio, che erano da quel punto di vista efficienti in tutto e per tutto. Insomma, e questo gli ha salvato la vita, anche perché il catamarano si era rovesciato, la barcavela si è scuffiata, si dice in gergo tecnico. E quindi è difficile poi rimetterla in piedi. Lavori utili al posto di tariffe e tasse. La proposta di Udc e Progetto Fano per sostenere cittadini in difficoltà e migliorare il decoro urbano. Quindi io lavoro, tu al posto di pagarmi, mi fai gli sconti nelle bollette, nelle tasse, eccetera, eccetera. Si chiama scambio amministrativo, la facoltà prevista dalla legge, ma serve un regolamento. Sempre dalla pagina del Corriere Adriatico. Via libera alla bonifica dell'amianto, patto di stabilità sbloccato, un milione di euro. Interventi anche per il Palasport, la palestra Venturini e l'ex mattatoio. Poi sempre dal quotidiano delle Marche. La pagina di Fano è Valle del Cesano. No alla ricerca del petrolio. Il comitato ha riunito amministratori cittadini coinvolti 16 comuni nel piano della McCoyle. Siamo a tre castelli. Poi sempre dal Corriere Marotta. La sinistra non vuole l'outlet. Giochetti politici per le elezioni. Barbieri paventa danni a residenti, territori ed investitori. Agenzia delle Entrate. Tale salviamo Fano. Incontro con il direttore delle Marche. Il consigliere regionale ha segnalato l'utilità della sede dell'agenzia delle Entrate appunto per i contribuenti per le valli del Metauro e del Cesano. Muore a 26 anni mentre va al lavoro. Siamo sulla pagina di Senigallia. Una studentessa si schianta tra Siena e Darezzo. Durante l'estate era impiegata in un resort. Alice Rondini era addetta alla reception di un hotel di lusso. L'incidente in Val d'Ambra. Una ragazza riservata ma concreta. Sotto invece da Senigallia ancora. Frontale per un turista contromano. Grave una coppia. Violento impatto sulla statale adriatica tra due Audi. Ricoverati un manager della catena dei supermercati Simplicon e la moglie. Lo scontro all'altezza di via Bellini. La statale è rimasta bloccata per un'ora per conseguenze pesanti per il traffico. Dalla pagina di Pesaro e provincia. Urbino celebra il jazz. Domani l'avvio con il concerto di Gualazzi e di Gregorio. Ecco il programma. E sotto da Fossombrone. Una palla di fuoco nel cielo. Testimone sostiene di aver avvistato un UFO. C'è anche una fotografia. Il post è stato pubblicato su Facebook. Scatena un dibattito. C'è chi osserva che quella notte era in volo un drone. Ancora dal Corriere. La pagina di Pesaro. Le candele. Le candele nella notte delle stelle. Saranno 3.000 lungo 5 km di litorale arredato con una maxi tavolata. All'appuntamento di lunedì parteciperanno 60 concessionari di spiaggia. Collegamento con il ROF. Poi sempre da Pesaro. Servizio potenziato nei boschi e in mare. Al lavoro fino al 15 di settembre. Fino a settembre 15 vigili del fuoco in più. Sorveglianza sul San Bartolo e nei monti. Sede a Macerata Feltria. Torniamo sul messaggero. La pagina di Pesaro. La pagina principale. Notte unica in Italia. Dice il sindaco di Pesaro che lancia il nuovo evento che a San Lorenzo coinvolgerà 4 km di spiaggia. Un palcoscenico naturale con 3.000 candele. Ho detto al collega di Rimini che ce la invidierà questa iniziativa. Mentre non tutti sono contenti però di quello che il sindaco sta decidendo. Per esempio i bagnini protestano e presentano un documento. Ci sono anche delle scritte contro la spiaggia per i cani. Una spiaggia a fianco al fiume Foglio. Ormai ora alla Baia spuntano anche scritte di protesta. Cani no grazie. I bagnini non mollano. Domani presenteranno appunto come dicevo un documento. Poi sotto AFA sono le giornate clou. Sono le giornate più calde queste che stiamo vivendo. Poi come abbiamo visto dalle previsioni nei prossimi giorni cambierà un pochettino e addirittura insomma potrebbe arrivare anche qualche goccia di pioggia. Sempre dal messaggero la pagina delle Marche. L'aeroporto di Falconara, l'aeroporto delle Marche. Sanzio ai russi. Si decide. Belluzzi. La nuova porta per noi man dal cielo. Il presidente della Aerdorica favorevole al nuovo partner. Lo scalo di Rimini non vogliamo interferire dicono con Ancona. Turismo. La regione rinuncia a film e testimonial. Finanziamenti sospesi per la seconda parte del 2015. Se ne riparlerà il prossimo anno. Dunque la promozione passa attraverso il web. Andiamo ancora avanti. Sempre qui vedete la fotografia della conferenza stampa di presentazione della notte delle candele con le protagoniste che sono appunto le candele e poi anche un drone che servirà per le riprese aeree. Il popolo della rete commuove la famiglia del pasticcere Alberini. Dopo la morte di Costante l'attività sta per chiudere ma oltre 900 pesaresi chiedono di ripensarci. Già tre imprenditori sono interessati a rilevare lo storico locale. Il paso della Confcommercio dice spero che facciano la scelta migliore. Vedete l'immagine della pasticceria Alberini del Corso. Siamo sempre a Pesaro. Poi ancora e siamo quasi in chiusura sui vigili del fuoco. Più uomini per l'emergenza. Al comando provinciale 15 unità in aggiunta durante l'estate e la stazione di Macerata Feltria presto funzionerà 24 ore su 24. Il piano contro gli incendi di Bosco dà buoni risultati. Poggiali dice San Bartolo, una squadra pochi minuti dopo il rogo. Poi si parla di Igli, colui che ha ucciso Ismaele. Igli è in cella, non chiede a nessuno quale sarà la sua pena. Non fa domande, non vuole sapere del suo futuro. Però c'è un nuovo incontro in carcere tra l'avvocato a sole e il suo assistito, Igli appunto meta, il ventenne albanese reo confesso dell'omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne di Sant'Angelo in vado, sgozzato domenica 19 luglio per motivi di gelosia. È una visita che viene definita di vicinanza da parte del suo avvocato, che dice abbiamo rinunciato alla sospensiva per le ferie di agosto, ciò significa che i RIS proseguiranno i rilievi sui reperti, sul telefono di Ismaele, in modo da avere quanto prima i risultati, avere i riscontri necessari per confermare quanto confessato da Igli. Insomma questa è la notizia pubblicata sul messaggero. Poi velocemente sul resto del Carlino, guardate questa storia davvero incredibile, di follia, di pazzia, il dramma. C'è questa persona, questo 45enne pesarese che vedete in questa fotografia, Gianluca Oliva, ex Buttafuori, che è stato arrestato l'altro ieri nel parcheggio dell'aeroporto di Rimini per lesioni e violenza. Cosa ha fatto? Lui insieme ad un suo amico, Omar Protti di Rimini, hanno preso a pugni padre e due figli per una questione, pensate, di precedenza. Adesso un ragazzo di 22 anni, Kevin Fiore, riminese, è ricoverato in condizioni disperate per un pugno devastante alla tempia. Cioè si può morire davvero per una cosa del genere? Cioè che valore stiamo dando alla vita? Una cosa drammatica davvero. Non è retorica e bisognerà veramente cominciare a riflettere, cominciare a che qualcuno prenda l'iniziativa, una volta per tutte, ma qua si comincia a discutere su questa cosa. Mille candele in mare, un'estate da record, anche qui sul resto del Carlino, i bagneni invece della BAI annunciano l'oscuramento, loro sono arrabbiati, siamo stanchi, la concessione per i cani è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E poi ancora dal resto del Carlino, verde pubblico, siamo a Fano, serve gente, Marco Savelli della lista civica noi città sull'emergenza, poche risorse, spazio ai cittadini e alla pubblicità. In che senso ha la pubblicità? Abbiamo delle rotatorie, le peggiori in assoluto, basta fare un giro per il litorale, andate a Rimini, Riccione, Gabice, poi saltate Fano, andate direttamente a Senigallia, insomma le nostre sono un po' così, sono spente, non c'è una scritta, non c'è niente e quindi chiedono di dare un po' di vitalità a queste rotatorie anche con della pubblicità che possa finanziarle, quindi possano in qualche modo, anche Pesaro, Scavolini, Berloni, Aspes, hanno fatto delle rotatorie, insomma tutto sommato di una certa qualità. E vabbè, da noi è così. Poi sempre sul resto del carino, San Costanzo Show con furore a Mondavio, la notizia che comunque approda stasera nella cittadina roveresca il San Costanzo Show alle 21.30 in piazza della Rovere, a pochi passi dalla celebre rocca griffata appunto Francesco di Giorgio Martini. Allora questa invece è la fotografia dello scontro frontale, il luogo in cui è avvenuto l'incidente mortale dove ha perso la vita questa ragazza di 26 anni di Senigallia, il luogo è in Toscana tra le province di Siena ed Arezzo. Poi caso Outlet, Amarotta, Barbieri, Sinistra, Ambigua. Chiudiamo, chiudiamo con questa notizia che vi farà sicuramente sorridere. Si tratta di, leggiamo il titolo insieme, guardate, anche perché il titolista del Carlino delle volte ci azzecca alla grande, sempre ci azzecca alla grande, non delle volte. Rino il perseguitato dalla fortuna, in una notte perde il portafogli, poi lo ritrova, vince un'auto, che è la seconda, alla festa del Partito Democratico. E John Betti giustamente ci ha fatto su la sua bella vignetta. Patrignani è un rinomato, vivaista, fortunato, davvero, perché questo signore che si chiama Rino Patrignani, alla festa dell'unità di Urbani, l'altro giorno, ha perso il portafogli alla festa, dicevano, ma nello stesso tempo, controllando i biglietti, si è accorto di aver vinto un'auto, il primo premio della lotteria. E lui dice, già sei anni fa vinse una Fiat 500, sempre nella lotteria di questa festa. Insomma, davvero, quando deve andare bene, non c'è niente da fare. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, che torna domani mattina alle 7.30 puntuali, che potrete rivedere in qualsiasi momento, così come tutti i nostri servizi televisivi, sul nostro portale internetocchionanotizia.it. Stasera ci rivediamo alle 20.30 per il Tg Occhio alla Notizia. Buona giornata a tutti, arrivederci.